Buon pomeriggio, siamo sempre di domenica 23 gennaio e siamo qua. Pomeriggio discreto, assolato, fa un po' freddo. La tribù è uscita anche perché c'erano degli amici e dei parenti oggi a pranzo. Finalmente se ne sono andati e sono rimasto da solo. E ne approfitto per fare questo breve video, soprattutto rivolto ai nuovi entrati in questo profilo. Persone che conosco così così, più di nome che di sostanza. Comunque io ringrazio tutti, nei prossimi video ringrazierò sempre i nuovi arrivati, soprattutto quelli che non mi conoscono. Poi a me mi vedranno, sapranno come la penso, cosa voglio dire, cosa dibatto, cosa porta avanti. Mentre molti di loro purtroppo sicuramente non saprò niente. Ma non ha importanza, ognuno nasce come la natura lo manda su questa terra. Non è che si può cambiare in un attimo, non si può cambiare in maniera repentina. Ci vuole tempo se si vuole cambiare, se non si vuole cambiare ognuno resta con me e buonanotte ai suonatori, come si diceva un tempo. Benissimo, allora io saluto tutti questi nuovi amici arrivati e mi appresto a trattare un tema forse poco sentito da parte della gente, dei talk show, opinionisti, giornalisti e così via. Il piacere di stare con i propri pensieri. Ecco perché io spesso mi isolo e non voglio stare con tutti questi tizi qua, con tutti questi parenti. Sentire sempre il problema dei figli, dei nipoti, i problemi oggettivi che abbiamo un po' tutti e così via. Perciò mi isolo e qualcuno può dire, vabbè ma non ti puoi isolare la sera quando vai a dormire. Sì, mi posso isolare soprattutto la sera quando vado a dormire. Ma prima di dormire, anche se vado a letto tardi, io leggo spesso. E pertanto quando si legge non è che si ha la possibilità di poter centrifugare le proprie idee. La centrifuga si può fare in un momento che non si attivi con la mente, che uno non ascolta, non legge, non vede niente. Allora in quel momento uno si può fermare e può frullare le proprie idee. Ecco, questi sono i momenti che io amo tantissimo. Perché amo questi momenti? Perché ci sono delle curiosità dentro di me che vanno avanti, che mettono in modo questa lavatrice dei pensieri, che li gira, li centrifuga. E poi alla fine cosa esce? Di solito in una lavatrice esce il bucato pulito, che fa un odore squisito, proprio piacevole. A volte invece i miei pensieri escono con un po' di verità e sono, diciamo, un po' sgradevoli a sentirli, se trasmesse a qualcuno. Ecco, purtroppo affiancarmi a una lavatrice è buono da un lato e brutto dall'altro, perché i panni alla fine escono puliti e con un profumo veramente piacevole. Mentre quando noi frulliamo i nostri pensieri e tiriamo fuori qualche mezza verità, qualche risultato, di solito non profuma quasi mai, perché la verità purtroppo è brutta, è cruda, è sgradevole, anche da un punto di vista per quanto riguarda l'olfatto. E allora io mi metto a pensare. E cosa pensi? Ammettiamo che c'è sempre qualcuno che ti fa delle domande, dice scusa ma tu che cazzo pensi quando metti in moto questa lavatrice? Cosa penso? Penso soprattutto che ormai ho superato, secondo me, i tre quarti della mia vita. Questo è un pensiero ricorrente. Qualcuno può dire, dice ma scusa questo non è un pensiero ricorrente, questo è un pensiero dei cotardi, dei vigliacchi, dei paurosi, di coloro che hanno paura della morte. Sì, può anche darsi, è vero, ma io non è che ho paura, paura della morte. Io penso che la morte sia una cosa naturale, normale e la penso da quando ero piccolino. La cosa che mi preoccupa è che se ho fatto da un punto di vista soprattutto intellettivo un po' tutto nella mia vita per quanto concerne proprio quest'ambito, cioè l'attività del pensiero, del ragionamento, di riuscire a capire certe cose, di partecipare a certi fatti e di solito i fatti in cui uno viene conficcato sono i fatti sociali, politici del nostro vivere quotidiano. E onestamente per poter capire sempre qualcosa e arrivare a un concetto finale si devono fare dei confronti. E quando io confronto i miei ragionamenti che sono reali di ciò che vivo, estratti proprio dalla vita quotidiana, con quelli che poi si possono realizzare in Svizzera, in Svezia, in Austria, in Inghilterra e così via, mi viene una rabbia che mi sbatterei la testa in un muro. Perché qualcuno dirà? Perché non riesco a capire perché in altri posti hanno raggiunto certi livelli di civiltà e noi invece siamo costretti, soprattutto qua al sud, a vivere una realtà inquietante. Una realtà inquietante. Se uno vive a Napoli è quasi un film horror per quello che ti succede, per quello che senti, per il fatto che non senti nessuno parlare in italiano. Cioè in una nazione che è la tua, che si chiama Italia, tu non senti parlare una persona in italiano e se qualcuno si cimenta a parlare in italiano c'è da suicidarsi, ti fa proprio schifo gli errori, le minchiate che dici, come le dici e così, che alla fine una persona a quel tizio gli dice per cortesia continua in dialetto, non parlare più. E allora tutte queste cose danno fastidio perché è una cosa parlare e discutere di queste cose in teoria. Diverso è quando tu discuti un qualcosa che viene dall'esperienza. Non so se ci siamo capiti, non so se mi sono spiegato, disse il paracadute. Cioè è una cosa che di solito si discute in teoria. Ciò vuol dire che la persona che sta discutendo non ha affrontato quel tipo di realtà. E allora la discute da un punto di vista intellettuale, così, di amicizia, di professione perché si trova magari in una televisione, fare l'opinionista, entro i talk show e così via. I miei discorsi sono quasi provenienti, quasi tutti, provenienti dalla realtà. Cioè da ciò che io ho vissuto e che ho vissuto sulla mia pelle. Difficilmente io mi metto a discutere di fatti che non ho mai visto, di fatti che non ho mai toccato con le mani. Cioè che non sono stato inserito in quella realtà, che non ho affrontato quella realtà. Difficilmente. Ora, non è che io posso parlare del sistema sociale, esempio, americano. Perché io in America non ci sono mai andato. E ne ci andrò sicuramente perché non ho nessuna aspirazione di andare in America. Perché la spazzatura che abbiamo in Italia ce l'abbiamo già qua. Non bisogna andare in America a vedere altra spazzatura. Questo è il mio concetto di base. Certo, mi piacerebbe ritornare in Norvegia dove sono stato da ragazzo. Mi piacerebbe andare in Svezia dove non ci sono mai andato. Vorrei ritornare per qualche giorno in Inghilterra. Sono stato pochissimo. In Francia sono stato 15 giorni. Ma non mi è piaciuto niente della Francia. Proprio niente. E forse vorrei ritornare di più in Austria. E spesso in Svizzera che ci vado di rato ormai. Ma per il resto non ho grosse velleità. Se dovesse dire, come dice qualcuno, New York, Los Angeles, a destra, a me non me ne ha fatto proprio niente. Forse, forse qualcosina per l'Australia. Ho un occhio particolare per l'Australia. Ma è così, più teorico. Allora, perché dico questo? Perché io sono costretto a vivere una realtà, soprattutto nella seconda parte della mia vita, che purtroppo nella mia prima parte non ho vissuto. Io sono stato quasi sempre amici a Capodorlando. Capodorlando, quando era Capodorlando, proprio da bere, come si diceva per Milano. La Milano da bere. Noi avevamo anche la Capodorlando da bere. Una cittadina brillante, con qualche guaio, indubbiamente, ma sempre brillante, con persone squisite, con persone che davano una spinta, un aiuto nel periodo estivo ad accettare tutti quei turisti. Certo, qualche volta i turisti scappavano perché i prezzi puntualmente, a metà giugno, aumentavano vertiginosamente. Però poi si cercava di recuperare il perduto e due anni dopo, tre anni dopo, si ricominciava da capo. Ma c'era una Capodorlando da offrire, una Capodorlando da bere. Chi veniva a Capodorlando restava senza fiato. Veramente era una Capodorlando d'estate, soprattutto mozzafiato. Non c'erano liti, non c'era niente, divertimento, gentilezza, accoglienza, c'era tutto. C'era tutto. Oggi non lo so perché io non vado più da quasi 15 anni a Capodorlando, pertanto non ho neanche l'idea. Purtroppo le notizie che mi arrivano non sono buone. Ecco, la mia prima parte di vita è stata vissuta in quel meraviglioso paese che ultimamente in una trasmissione ha ricordato anche Gino Paoli, dove nel 1960 lui venendo dalle zone del borgo che abbiamo di pescatore venne là per, non so se era una serata, poi disse che quella serata andò avanti, lo chiamarono per altre serate e allora dici della band che avevo, fecero venire qua in quella zona che si chiamava Capodorlando dove non c'era niente, c'erano solo le isole Oli, la bella spiaggia e siamo stati un mese e proprio in quel mese lui tirò fuori la canzone più forte degli anni Sessanta e sicuramente del suo repertorio la prima in assoluto e forse una delle più belle anche in assoluto degli anni Sessanta che sapore di sale, abbiamo questo grande orgoglio di sapere che quella canzone è stata scritta a Capodorlando e lui l'ha ricordato in una trasmissione in Rai qualche mese addietro bene, allora fin quando io ero a Capodorlando mi lamentavo ma mi stradivertivo perché sfruttavo ciò che offriva in quel momento veramente la società di allora soprattutto il periodo estivo di allora e mi divertivo come a 360 gradi mi stradivertivo, io mi alzo un attimo perché non riesco a stare su questo salottino qua questa poltrona che, ah ecco e soprattutto in estate perciò le polemiche erano a lumicino le cose andavano bene per me quel modo di vivere era accettabile godibile perché si parlava di fiche di pilo le donne erano in abbondanza in inverno certo le cose andavano più a rilento perché le ragazze di Capodorlando non avevano quella tendenza di aprire le gambe facilmente perché la ragazza orlandina di quei tempi camminava tutta tirata tutta truccata come dire qua, come dicono a Napoli io sola la tengo, io sola la tengo e perciò era tutto un po' di fumo e allora si aspettava l'estate per poter fare una scorpacciata di pilo ma proprio mi ricordo che venivano in certi villaggi a Capodorlando a gruppi di 6, 7, 10 mi ricordo una volta 10 toscane in un villaggio e uno giustamente si stradivertiva il tempo per polemizzare non c'era perché il pilo dove c'è pilo c'è tutto nella vita dove c'è pilo non bisogna cercare più niente non bisogna più disprezzare niente non bisogna arrabbiarsi per niente per nessun altro motivo perché il pilo è la medicina di tutto nella vita dove c'è pilo si sta bene quando il pilo finisce o perché finisce nel senso che le fighe non si fanno vedere o ce n'è poche oppure perché uno diventa anziano come me e purtroppo una trombata e a quando capita e le cose vanno male le cose vanno male perché io cerchiamo di essere seri allora quando oggi tutti si lamentano quasi tutti quasi tutti prendono pillole quasi tutti vanno da psicologi vanno da psichiatri pure quando c'è questo malessere soprattutto mentale io per addetto ai lavori come psicologo la mia seduta sarebbe di un minuto o due minuti massimo perché farei una sola domanda al povero malcapitato paziente come lo volete chiamare metto un paziente maschio ma anche una femmina anche una femmina farei una sola domanda a questo paziente soprattutto maschio dico senti a pilo come andiamo se lui mi dice a pilo andiamo benissimo trombate a non finire quando voglio trombo e poi sta male allora quella persona veramente sta male ma nove volte su dieci i problemi che hanno queste persone vengono dal pilo perché non ce n'è perché non fanno sesso perché non trombano è la prima domanda da là si vede tutta la serenità e la sanità di una persona dal pilo se tromba o non tromba se la persona che tromba difficilmente ha problemi difficilmente si lamenta io mi ricordo quando per me trombare era un mestiere perché ero quasi un prostituto mi lamentavo sì c'era questa mania a lamentarsi questa tendenza a criticare ma era ai minimi storici in una giornata pochissima oggi invece sono terribile terribile dici ma perché perché trombo quando capita può anche darsi può anche darsi che sia così però perché sono stato buttato oppure ho scelto non sono stato buttato non voglio dire questo ho scelto di vivere la seconda parte della mia vita in una zona che è completamente diversa da quella che vivevo a Capodorlando ripeto a Capodorlando perché se mi distaccavo da Capodorlando non era una vita diversa da quella che vivo oggi come ambiente come strato sociale come abitudine come tutto e soprattutto come linguaggio non era diversa a Capodorlando si viveva in maniera diversa in estate c'era il paradiso estivo grazie a quelle fighe che venivano dal nord e perciò uno stava bene però poi passare in un ambiente dove le fighe sono al minimo perché qua i matrimoni parliamoci chiaro si fanno quasi in famiglia perché ci sono le proprietà ci sono gli interessi e allora si cerca di stare sempre insieme di non dividere niente e perciò i ragazzi si fidanzano giovanissimi e poi a 25 22 23 20 anni a volte si sposano se non prima addirittura queste cose a Capodorlando non esistevano perciò tu devi cambiare abitudini devi cambiare modi di pensare devi cambiare tutto tutto è in peggio devo essere sincero in peggio dici ma te ne sei andato a Napoli tutti sognano Napoli sì ma Napoli è per due ore per mezz'ora per ricordare questo per ricordare quello ma vivere a Napoli è tutta un'altra cosa vivere a Napoli ci vogliono le palle come vivere a Palermo ci vogliono una cosa a Palermo bellissima amata dai grandi scultori pittori poeti scrittori di un tempo era un posto di cultura indubbiamente ma viverci è tutta un'altra cosa è una cosa Napoli di Maradona via è una cosa invece e io sono arrivato proprio in quel periodo viverci è tutta un'altra cosa perciò questo cambiamento ha inciso moltissimo nel mio modo di pensare perché anche quando ancora il pilu non mancava tutti i giorni io mi lamentavo perché non potevo non vedere tutto quello che mi succedeva a fianco non potevo far finta di non capire quello che dicevano certe persone e che facevano certe persone perché qua certi discorsi quando io sono arrivato dicevo ma che cazzo dicono ma ho capito quello che ho capito oppure non ho capito niente no avevo capito perfettamente di che cosa parlavano di che cosa dicevano dei furti che si facevano io mi ricordo quando arrivai per la prima volta quasi 40 anni fa a Capodorlando io ero abituato che per le strade c'erano le macchine e la sera si andava a letto si andava a dormire e si lasciavano le macchine nelle strade io la prima volta che mi sono soffermato che ho vissuto che ho dormito anche a Giuliano in provincia di Napoli mi ricordo che esco fuori verso le 10 10 e mezza e fuori non c'era nemmeno una macchina che ha messo per la prima volta la macchina fuori soprattutto nella zona dove vivo ancora oggi sono stato io e il mio suocero mi diceva Antonio togli quella Renault togli quella Renault perché qualche sera te la fanno scomparire io ero convinto di essere ancora a Capodorlando e quella Renault la lasciavo fuori dopo un paio di mesi e 15 giorni prima avevamo fatto un cambio di tutto di quella macchina l'avevamo messa a nuovo avevamo speso in lire più di 800 mila lire la sera due sere successive che avevo preso la macchina dal meccanico bella pronta quasi nuova me l'hanno fregata l'unico furto che ho subito in vita mia anche se qualcuno dei vicini di casa mi hanno detto che si erano accorti verso le due di notte che c'erano dei ragazzi che stavano attaccando la macchina che la stavano trainando io non ho sentito niente e questo è stato perciò praticamente tutte queste cose io a Capodorlando non le vivevo quando sono arrivato qua ho dovuto cambiare tutto e onestamente tu come fai? o ti stai zitto qua per paura che qualcuno ti possa sparare o ti possa fare qualche brutta azione come si dice qua in gergo oppure ti ribelli io ho cercato di ribellarmi di dire questo di dire quello ho cercato di cercare o di ricercare questi questi ladruncole perché poi di ladruncole si parla non ci sono riuscito perché quando arrivavo da qualcuno che doveva tirare i nomi quella forza avrebbe tirato fuori i nomi se io mettevo sul tavolo 400-500 mila lire ma io non è che dovevo fare una cosa del genere perché la macchina alla fine non valeva più di 2 milioni grossomodo 2 milioni e mezzo però mi dava fastidio che avevo fatto una spesa di 800 mila lire e che me l'avevano fregata due sere dopo perché sapevano tutto perciò se la matematica non è un'opinione si dice facendo dei ragionamenti prettamente razionali chi ha rubato quella macchina era a pochi passi da me a pochi passi da me o viveva a pochi passi da me perciò era qualcuno del vicinato sicuramente però restano poi i dubbi restano le ipotesi non puoi dire niente se non sei sicuro e la cosa finì là ma la macchina non valeva più di 2 milioni e 2 milioni e mezzo perciò forse io non la sopportavo neanche più ed è stato un bene che se la sono portata allora questo cambiamento di luogo di abitudine e di tutto soprattutto di linguaggio perché qua nessuno parla in italiano onestamente ai primi tempi fu come dire una via crucis per il mio modo di fare di andare avanti però mai dissi tra me fra poco me ne vado e non torno più tolgo il disturbo e me ne ritorno a Capodorlando onestamente non l'ho mai pensato non l'ho mai pensato perché ho cercato di affrontare la realtà minuto su minuto minuto su minuto come dovrebbe fare chiunque in una nazione come fanno in Svizzera come fanno in Austria come fanno in tutti i posti io seguo l'ho sempre detto i telegiornali svizzeri e là non si capisce niente per cambiare quella società svizzera per farla arrivare sempre più in alto per avere una società sempre economicamente parlando ad altissimi livelli dove il cittadino sta bene e sta bene veramente fanno di tutto cambiano leggi fanno referendum fanno c'è da impazzire ogni minuto c'è un cambiamento o si tenta di cambiare ciò che non va in Italia invece è tutto l'opposto doveiamo in Italia soprattutto il sud non si fa un cazzo siamo prigionieri delle nostre abitudini abitudini nataviche non abitudini le nuove abitudini sono pochissime noi pensiamo alla famiglia pensiamo ai figli pensiamo ai nipoti i figli devono stare fino a 40 anni dove stai andando stai attento vedere il ragazzo già a 25 27 anni come un bambino sono tutte cose che purtroppo noi viviamo sono delle gabbie che viviamo soprattutto nell'Italia del sud ma viviamo anche in mezzo alle buche le strade scassate i dossi le strade chiuse dove non abbiamo nessun servizio in poche parole però le tasse arrivano tutte anche maggiorate perché poi c'è qualche qua qualche comune che ha perso un sacco di milioni di euro e poi questi milioni di euro che non si sa dove sono andate a finire mentre si sanno perfettamente perché non è un mistero giustamente col tempo si devono recuperare perciò le bollette avanzano aumentano diventano più cari e il cittadino deve sempre pagare io queste cose non le ho mai potute sopportare non le ho mai potute sopportare le ho sempre denunciate ma vedo che sui social i miei amici altri chiunque fanno cazzate fanno battute vorrebbero diventare grande attraverso quelle minchiate che dicono se c'è qualcuno che le fa hanno dei miei amici nel mio profilo nessuno fa un video onestamente ci sono cazzate quando questo o codesto come dicono a Firenze a Pisa social potrebbe essere sfruttato in un altro mondo lo dico sempre ma non c'è niente da fare non hanno il coraggio di fare un video forse non sono in grado di fare un video e allora ai miei amici dico io vi aspetto vi saluto ogni qual volta farò un video però aspetto da voi un cenno una risposta almeno un video in un mese una volta ogni due mesi ogni tre mesi fatelo anche perché io penso che tra i miei amici anche se non li conosco tutti ammenadito posso dire che sono diplomate sono laureate sono in grado di portare avanti un discorso di dire abbraccio quattro paroline e trattare un argomento penso di sì invece non lo fa nessuno e c'è da chiedersi il perché me lo sono sempre chiesto qualcuno dice che loro molti di loro lavorano non hanno tempo non perdono tempo a cazzeggiare per queste cose no vi sbagliate noi non viviamo in Svezia in Svezia sì c'è qualcosa da denunciare nella società ma non come in Italia la Svezia non ha cinque mafie la Svezia non sa che cosa voglia dire la parola mafia la Svezia avrà dei ladri di polli che a volte invece di rubare un pollo fanno qualcosa di più grave ma sempre intorno restano sempre là intorno ai ladri di polli cioè i delinquenti ci sono ovunque ma ladri di polli è un fatto fisiologico come dicono grandi esperti del settore così anche in Norvegia così anche in Australia così anche soprattutto negli Stati Uniti così in Nuova Zelanda così ovunque ma in Italia non è così in Italia noi abbiamo cinque mafie pericolosissime ma nessuno ne parla ma nessuno ne parla io ho tanti amici quasi tutti siculi e napoletani dove c'è la maggior concentrazione se non proprio oggi reale di questi delinquenti perché molti si spostano al nord però le radici partono sia dalla Sicilia che dalla Campania da Napoli però di queste cose nessuno ne parla nessuno ne parla non ne parlano per mancanza di coraggio non si sa perché non sono informati sui fatti non hanno la forza di mettere su un concetto non lo so non ne parlano perché si sentono minacciati perché parlandone qualcuno potrebbe fare loro dei torti o addirittura del male non parlano perché perché magari sono a favore della mala vita perché fanno parte della mala vita e perciò uno che fa parte della mala vita non è talmente pazzo da mettersi là e fare un discorso contro la mala vita non penso proprio cioè dovremmo capire perché tutti tacciono tutti tacciono e nessuno vuol parlare di questo argomento come se questa mafia fosse un'invenzione di qualcuno di Antone Adamo di qualche altro di qualche pseudo giornalista che ne parla così saltuariamente no la mafia c'è e oggi è più forte di prima perché non spara perché nel momento in cui la mafia non spara ciò vuol dire che la mafia sta ingrassando sta andando a gonfio e vele a gonfio e vele e vele gonfio e vele vanno i suoi interessi i suoi commerci perché vuol dire che le cose vanno bene perciò la mafia è presente più di quando spara quando la mafia spara ciò vuol dire che dentro il sistema mafioso delle famiglie le cose non vanno più bene e allora sparano ma quando non si spara amici la mafia non è scomparsa la mafia proprio in quel momento è forte e fortissima ma nessuno ne parla tutti forse hanno paura tutti pensano che forse è meglio avere la mafia al loro fianco più che lo Stato e allora se è così il ragionamento uno dei due deve andare fuori qua parlano di fare il Presidente della Repubblica lo Stato non vuole andare fuori la mafia neanche neanche diciamo quando dico mafia voglio dire tutte le mafie però non è che il cittadino può sopportare sia le mafie sborsando che lo Stato perché costano perché queste due organizzazioni diciamo queste due figure costano al cittadino un sacco di soldi e il cittadino non ce la fa più una volta io mi ricordo che ero in Croazia tre anni fa e dissi a un a un benzinaio dopo che mi ha messo la benzina come mai avete e lui capiva perfettamente l'italiano ha detto come mai avete la benzina a 0,70 70 centesimi lui mi ha guardato forse mi ha inquadrato mi ha detto voi parlate bene l'italiano non siete né napoletano né sicuro né niente perché non vi avrei neanche risposto perché loro capiscono pure il siciliano il napoletano e così via vuole che le dica per quale motivo abbiamo la benzina a 70 centesimi non ho detto ho capito perfettamente non c'è bisogno se la tenga per sé questa spiegazione perché lo so per quale motivo abbiamo la ecco quello mi voleva dire ma se voi vi mantenete tutte quelle azioni mafiosi le accise questo quello perché dovete ingrassare sia politici che altre persone cioè con chi ve la volete prendere noi paghiamo soltanto un dot e la benzina da noi cioè che poi è una nazione nuova una nazione che si è liberata distaccata da quel blocco balcanico che c'era un tempo e la benzina ora si vende quasi 70 centesimi noi non andiamo in Italia voleva dire perché là non siamo talmente cretini ad andare a pagare la benzina che allora era 1,80 1,80 euro e arrivava a 1,90 in quel periodo ci fu un periodo poi la benzina è ritornata un po' giù però in quel periodo la benzina costava e loro la facevano pagare quasi un euro in meno anzi più di un euro in meno la facevano pagare a 70 centesimi allora tutte queste cose sommate si dovrebbero discutere che non vanno sempre attraverso un confronto con altre nazioni perché la benzina non costa niente attualmente la benzina e tanti altri anche il metano non lo so ma la benzina in Austria è ai minimi storici perché in Austria è così bassa e nel resto d'Europa perché quella fa parte dell'Europa perché prima eravamo in Cina ora siamo in Europa perché là è così bassa la benzina e da noi e alle stelle sono tutte cose che dovremmo discutere che dovremmo discutere dovremmo discutere di più su questa società italiana che perché è spaccata in due noi viviamo anche se non c'è una battaglia anche se non c'è una guerra c'è c'è una divisione da separati in casa noi siamo due nazioni completamente diverse cioè l'Italia è da paragonare quasi quasi ma al contrario però alla Corea del Nord con la Corea del Sud solo che la Corea del Sud è l'Italia del Nord e viceversa perché ci sono due Italie almeno due Italie mettiamo perché quando si parla di Stato ci deve essere una situazione univoca tutto deve essere un tutt'uno cioè una persona che arriva a Enna uno straniero si deve trovare nelle stesse condizioni anche a Milano invece uno che arriva a Enna si trova in una condizione dove paga di meno a pochi servizi quasi nessuno non ci sono collegamenti non c'è niente è quasi un faro est senza offesa per Enna perché io amo questa città poi va a Milano e si ritrova tipo New York dove ci sono collegamenti dove ci sono quei c'è questo c'è quello autobus metropolitane taxi c'è di tutto treni treni veloci treni leggeri treni lenti c'è di tutto c'è di tutto e invece a Enna perché ci sono queste due Italie già il fatto che esista un fatto del genere deve essere addossata questa colpa a chi ci governa è come dire che un padre ha due figli a uno lo imbottisce di denaro di soldi lo arricchisce sempre di più anche in futuro lasciando questo lasciando questo e un povero figlio lo fa sopravvivere io penso che non esista in una famiglia una cosa del genere noi siamo in Italia come un padre che un figlio lo lascia quasi morto di fame e un figlio lo ha lo fa mangiare come un porco e gli dà tanti di quei soldi che può stare bene e non lavorare non è così che fa un padre e così non deve essere uno stato io se vado e provengo non so dalla Nuova Zelanda se vado a Enna devo trovare dei servizi un'accoglienza un tipo di società che la devo trovare anche a Milano invece ad Enna non trovo un cazzo e devo ringraziare Dio se non mi fregano pure il portafogli e poi vado a Milano e trovo tutto che mi possono fregare il portafogli pure a Milano soprattutto però trovo tutto un altro mondo questo non esiste ma queste cose non vengono discusse studiate perché le persone sono chiuse nelle famiglie le persone cosa o pensano a se stessi ai propri dolori ai propri guai mi sento qua mi sento male non mi sento bene oppure pensano i figli oltre non vanno c'è delle buche che hanno davanti a casa loro non gliene fotte proprio niente i dossi che ci sono messe a minchia di cane come diciamo noi in Sicilia non gliene fotte niente che posso dire strade chiuse servizi zero non passa mai un bus non passa mai niente le poste che non funzionano ti lasciano fuori sotto l'acqua quando c'è la pioggia il freddo e tu devi stare zitto la spazzatura che ultimamente viene presa ma poi abbiamo avuto una via crucis della spazzatura per quello che c'è stato e deve stare zitto cioè tutte queste cose qua al nord non esistono non esistono perciò una persona che parte da Grosseto dove sono stato io ultimamente più di un mese e viene da queste parti o a Giuliano o a Napoli o a Marano o nella zona casalese può stare un giorno al secondo giorno se ne scappa per pazzo questo rizzo cioè siamo sempre sullo stesso territorio queste sono tutte cose che poi vengono giustificate attraverso la storia attraverso la storia non è che si dice una volta per tutte pigliamo quei cialtroni che stanno là e che prendono 20-25 mila euro al mese e buttiamola a pedati in culo fuori no si giustifano queste differenze di mentalità di comportamenti di situazione di situazione storica attraverso la storia attraverso la storia attraverso la storia c'è praticamente quelli che ci stanno a fare là perché prendono 20-25 mila euro al mese su che base allora lasciamo buttiamo fuori tutti questi politicanti tutti questi tizi questi strozzini questi cialtroni tanto l'Italia cammina ugualmente perché dobbiamo pagare a queste persone per pagare il cittadino a quei cialtroni il cittadino si toglie il pane di bocca oggi lo toglie ai propri figli per pagare e mantenere i cialtroni questa è la storia ecco perché Antonio Adamo parlerà sempre continuerà sempre fino all'ultimo dei suoi giorni se poi non mi sparano non mi tolgono di mezzo allora questa è un'altra storia a voi tutti buona serata grazie grazie